Avete trovato, rovistando in un cassetto, in un armadio o come me, in una vecchia valigia, una reflex analogica. Quindi una macchina fotografica a rullino. Tuttavia non ne sapete granché. Non sapete se funziona, non sapete se è rotta, non sapete soprattutto come si usa. Rimanete con me fino alla fine del video e vi prometto che anche voi riuscirete a muovere i primi passi con questa strana creatura. Ma prima di tutto, sigletta! Ciao a tutti, cari amici miei, e benvenuti a un nuovo video. Io sono nel prova cose e quella che abbiamo davanti è un Olympus OM10, distribuita, credo, intorno agli anni 70. Vi avverto che questo video sarà diviso in due parti. In una cercheremo di risistemare un pochino la macchina fotografica e nel prossimo vi farò vedere esattamente come si usa. L'obiettivo è un 50 mm 1.8, molto comune per l'epoca. Questa macchina fotografica in particolare era a priorità dei riaframmi, quindi scegliendo l'apertura focale, la macchina in autonomia sceglieva i tempi dell'otturatore. Non vi preoccupate se siete in difficoltà perché questa cosa la affronteremo in un secondo video. Vi basti solo sapere però che questa macchina e molte altre che potete trovare in casa vostra sono spesso provviste di batteria. Quindi la prima cosa da fare è verificare che all'interno ci siano una o più batterie e verificare che queste siano in buono stato. Altrimenti bisognerà sostituirle. Nel mio caso il vano batteria si trova in questo punto, quindi possiamo semplicemente aprirlo con un cacciavite a taglio. C'erano due batterie RL44 da un volt e mezzo. Se le batterie sono rimaste all'interno della macchina fotografica inutilizzata per molti anni, è possibile che all'interno dei contatti si sia formato un po' di ossido. Il consiglio che vi do è quello di prendere un cotton fiocchi imbevuto o di acetone oppure un po' di carta vetra e grattare un pelo ai contatti. Io mi sono munito già delle batterie di ricambio e le vado ad inserire all'interno della macchina. A questo punto basterà rimettere il tappo. Ora dobbiamo verificare che la macchina si accenda correttamente. Per fortuna questo modello presenta il pulsante check per testare appunto la batteria. Non so se lo sentite, lo avvicino al microfono. Questo suono che avete sentito ci avverte che le batterie appunto sono cariche, quindi vuol dire che tecnicamente la macchina è alimentata al momento. Adesso, oltre a pulire la lente, io l'ho già fatto, possiamo provare anche a togliere l'obiettivo. Una volta tolto l'obiettivo, non troverete un sensore come le macchine digitali, ma bensì un vetro fisico che riflette l'immagine del viewfinder. Come potete vedere, se passo la mano dietro al viewfinder, la vedrete riflessa nello specchio. L'altro passo che ho fatto è quello di pulire sia lo specchio che il vetro del viewfinder. Io ho usato un pennello e un pannetto di quelli preparati con l'alcol. In realtà si trovano dei kit appositi per fare queste pulizie, vi lascio sotto in descrizione qualche link. Una volta ripulito, rimontate l'obiettivo. Una cosa che sicuramente dovete controllare è che riusciate a vedere il vostro soggetto attraverso il viewfinder e quindi che il vetrino non sia sporco, regato o rotto. Adesso apriamo il vano del rullino. Si apre questa clip e si tira. Assicuratevi anche in questo caso di pulire tutto correttamente. Anche il nostro vano adesso è pulito, andiamo finalmente a vedere se il meccanismo funziona. Con questa leva la pellicola del rullino veniva tirata per passare al prossimo fotogramma e con questo pulsante si scattava la foto. Proviamo a rallentare un po' il tempo di scatto. Adesso non ci rimane altro che inserire all'interno della macchina un rullino. E voi? Sapete come si fa? Prima di farvelo vedere vi chiedo se il video vi sembra utile, di mettere un mi piace e se volete vedere altri video come questo, di iscrivervi al canale. Per fare una prova io ho comprato questo rullino Ilford 36 scatti ISO 400 Black & White. Trovate il link sotto in descrizione. Allora, il rullino si inserisce al contrario. Una volta aperto lo sportellino, in questa maniera. Poi, questo si può già tirare giù, giusto per bloccarlo in maniera che non vada da nessuna parte. Ora non bisogna fare altro che tirare la linguetta. Qui ci saranno dei dentini in corrispondenza dei fori della pellicola. Andiamo a cercare di inserirlo più o meno qui. Ecco fatto. Adesso la pellicola è agganciata. Bisogna richiudere la parte posteriore, il coperchio. Adesso, come potete vedere, nell'oblò di ispezione della macchina fotografica c'è una S. Dobbiamo tirare la leva e scattare una foto finché non appare il numero 1. Che vuol dire il nostro primo scatto disponibile. Adesso non ci rimane che fare qualche prova di scatto. Ci tengo a precisare che non sono un professionista e non ho usato molte volte una macchina analogica. Volevo solo condividere con voi qualche metodo per cercare di capire almeno se la macchina più o meno funziona o no. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video in cui vi spiegherò a che cosa servono tutti questi bottoni, che cosa vogliono dire tutti questi piccoli numeri, come fare un autoscatto, una modalità bulb. Insomma, cercheremo di vedere la macchina più nel dettaglio, come si usa e quali potenzialità ha. E noi ci vediamo una prossima volta sempre qui sul ProvaCose. Ciao!